Ciao a tutti, oggi siamo tornati con un nuovo spacchettamento e oggi andremo ad aprire questi 5 pacchetti Prima di iniziare voglio fare il primo saluto della stagione a Bomber Christian, ciao Christian Iniziamo Allora Come l'hanno messi? Vabbè Iniziamo da Moncini della Spal Ragazzo del Cagliari Scozzarella del Parma Poi Idolo dei Silvestri E la coppia imbattibile, Ciro Immobile e Luis Alberto E poi Mirante Subito coppia imbattibile Buono anche un giocatore della Roma Scuffè Dell'Udinese Opoku Dell'Udinese E il primo diamante è Bentancur della Juve All'inizio mi sembrava Ronaldo E il muro d'acciaio è il nostro primo doppione No, il secondo Dell'Atalanta E poi E l'Aleksandro della Juve E l'ospina del Napoli Terzo pacchetto Bruno Alves del Parma Bremer del Torino Poi Stella Ilicic Un'altra stella Buono Cadaldi della Lazio E Colarov della Roma Ah, un'altra ce n'è E Buadeng Buono Stella Ilicic Dai, però adesso un Top Player Almeno tutti felici Magari Piontech Gastaldello Del Brescia Laurini Del Parma Rabbio Della Juve Poi Idolo Masiello Poi Blitz Death Wheel Del Bologna Blitz Credo sia tipo Super No, non mi ricordo come si chiamano Quelle dell'altro anno gialle E Calderoni Del Lecce Ultimo pacchetto Adesso un bel Piontech Top Player Leao Del Milan Cragno Del Cagliari Supereroi Alta Tensione Del Milan Muriel Dell'Atalanta Pussetto Dell'Udinese E Luis Alberto Peccato perché questo Spacchettamento Poteva andare meglio Speriamo che la prossima Alta Capireranno Delle carte Più forti Ciao a tutti